E ascoltiamo ora un commento dell'assessore all'ambiente della regione Lombardia, Claudia Terzi, sull'accordo Pigna e sul caso Caffaro di Brescia. Per una volta qui ad Alzano Lombardo vediamo una ditta che invece che delocalizzare decide di scommettere forte sul territorio. Beh, direi di sì. È stato definito oggi un esempio più unico che raro, forse il primo senza dubbio in Lombardia, ma direi anche il primo in Italia. Un'azienda che non solo non delocalizza, ma investe fortemente sul recupero di quelli che sono gli immobili, evitando così che un territorio come quello che occupa attualmente, che sono 110.000 metri quadrati, vada sostanzialmente, cada in disuso e soprattutto cada vittima di quello che è il degrado urbano tipico di queste zone industriali ormai abbandonate. Dunque l'importanza anche di riutilizzare zone abbandonate come quelle delle industrie, è questa la via da seguire anche per gli altri? Beh, direi proprio di sì. Direi che forse questo è il problema un po' di tutte le città industriali o semi-industriali tipicamente lombarde, ma ancor più tipicamente bergamasche. Su questo dobbiamo puntare e direi che l'esempio, il progetto Alzano e il progetto Pigna, ben potrà essere replicato in altre realtà, copiandolo pari pari. Questa è una delle tante cose, delle best practice, come si dice, che si possono ben copiare. La soddisfazione che il suo territorio, il territorio bergamasco, sia in prima fiale in questi casi? Assolutamente sì, anche perché, come ha ricordato il Presidente Maroni, in questo caso in particolare puntiamo tantissimo anche sul recupero ambientale. Quindi un intervento anche di bonifica, un intervento anche che punta alle fonti rinnovabili. Direi che meglio di così non si potrebbe sperare. Cambiamo provincia, spostiamoci in provincia di Brescia. Fa discutere il caso della Caffaro. A che situazione siamo? Siamo alla situazione che finalmente anche da Roma si sono accesi i riflettori sulla Caffaro. Sabato abbiamo incontrato la Commissione Parlamentare Ambiente. Ho chiesto espressamente al Presidente Realacci di non limitarsi ai tour elettorali o post-elettorali, ma di impegnarsi seriamente sulla Caffaro. Questo vuol dire che non bisogna solo pensare a come gestire adesso l'emergenza, ma bisogna trovare i soldi. Direi che Roma, in questo caso, così come ha fatto con Taranto, deve ricordarsi che qui c'è un'emergenza e che bisogna intervenire su questa emergenza. I cittadini lombardi non sono cittadini di serie B, anzi, sono cittadini di A più con 3 più e direi che forse è il caso che Roma se ne ricordi una volta tanto. E allora forse la Regione Lombardia forte serve anche a questo? La Regione Lombardia ancora più forte, direi, da quando alla guida della Regione c'è il Presidente Maroni che ha dimostrato più e più volte di battersi per i suoi cittadini e per il suo territorio.